Riconoscere l'impegno di quelle amministrazioni locali che mettono in pratica politiche concrete a favore della mobilità in bicicletta, perché una città a misura di bicicletta è prima di tutto una città per le persone. All'Aquila, a Palazzo Fibioni, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dell'Aquila ha consegnato la bandiera di comune ciclabile al comune del capoluogo di regione, nelle mani dell'assessore alla mobilità urbana Paola Giuliani. Perché avete deciso di premiare l'Aquila? Innanzitutto il comune dell'Aquila perché ha aderito all'iniziativa della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Nazionale denominata Comuni Cicloabili, che tende a valutare e riconoscere gli sforzi di un'amministrazione locale che si impegna nell'ambito della ciclabilità. Ciclabilità per noi significa più vivibilità in generale della città, perché per noi la bicicletta non è un fine, ma è un mezzo di trasporto che serve per rendere gli spazi urbani comuni più vivibili, non soltanto dai ciclisti, ma anche dai pedoni, anche dai bambini, dalle persone con ridotta mobilità, stimolare la socializzazione e l'economia locale. Un altro premio invece è proprio della nostra associazione locale di FIAB l'Aquila che abbiamo istituito quest'anno e che premia delle persone che si sono distinte durante l'anno per l'utilizzo della bicicletta in ambito urbano come proprio appunto mezzo di spostamento e abbiamo deciso di conferire questa prima edizione del premio a due cittadini argentini che sono residenti all'Aquila dal mese di maggio e che hanno deciso di scegliere la bici elettrica come mezzo di elezione per i loro spostamenti. Il premio consiste in un trofeo ricavato con pezzi recuperati da vecchie biciclette.